Filippo, un saluto a Ficarazzevi! Filippo, ficarazzo! Piano, piano, piano! Dai Filippo! Fateva andare meglio, dai! In volata! Ciro, ciao! Qui davanti c'è Van Potel, c'è Piorelli, c'è Manuccelli è una delle ultime curve che mette sull'allungo recilino di Rino è lanciato all'oste il signore, signore che dopo conosceremo il nome del vincitore della presa fatta del giro di Sicilia e lo prepariamoci per camattere veramente a pochi istanti parte Moschetti, parte Moschetti per la presa che prende lui a centro strada il milanese attenzione a recupero di Chiorelli Maluccelli, Maluccelli in bagliazzurra attenzione Maluccelli, Moschetti, Chiorelli! Angela, Filippo, terzo posto! Terzo posto! In volata! Siamo contenti, siamo contenti lo stesso ma è una bella posizione Ficarazzi c'è! E infatti, l'importante è esserci Filippo! Filippo, un saluto a Ficarazzi oggi Filippo, un saluto a Ficarazzi! Filippo! Filippo, un saluto a Ficarazzi! Filippo! 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 Ancora il tempo della mia vita è stato l'immaginario, consiglio di fare anche la Meschetti, e qui la terribile della Nazionale ha fatto una bella riera, la tua squadra ha lavorato fino all'ultimo per favorire il tuo arrivo. Ci tenterai ancora nei prossimi giorni? Ci tenterai ancora nei prossimi giorni? Filippo, hai dato comunque una gioia nella tua terra, hai fatto ancora un terzo posto, stavolta è ufficiale e stavolta questo è morto comunque per una stazione che sta conosciando sui fiori aspetti dopo un periodo sfortunato. Oltre il filo di Sicilia, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Poi ti lascio andare via. Grazie a Filippo Fiorelli Grazie a Filippo Fiorelli Grazie a Filippo Fiorelli